Musica Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento del giornale di TVR Xenon dedicato in particolare agli appuntamenti della settimana. Una conferenza stampa sul tema mafia capitale e coinvolgimento del Cara di Mineo comunicazioni e posizione del Consorzio Calatino Terra d'Accoglienza si terrà lunedì 22 alle 9.30 presso la presidenza del CDA del Consorzio Calatino Terra d'Accoglienza posta al primo piano del Palazzo Comunale in piazza Buglio 40 a Mineo. Sabato 20 con inizio alle 18 presso l'Aula Magna del Liceo Bonaventura Secuso si terrà il raduno degli ex allievi in occasione del 150esimo anniversario della Fondazione del Liceo Classico e Linguistico Secuso di Caltagirone dal 1864 al 2015. Modererà i lavori il dottor Domenico Amoroso, interverrà il sindaco, il dirigente scolastico della scuola da dottoressa Concetta Mancuso e testimonieranno anche alcuni ex allievi e professori il professor Michele Alilo, l'onorevole Giovanni Bortone, l'onorevole Marco Falcone, il professor Salvatore Resca alle 19.30 inizierà il concerto di musica classica con la partecipazione degli ex allievi alle 20.30 un rinfresco a cura dell'Istituto Carlo Alberto dalla Chiesa Ipsia di Caltagirone. Sabato 20 si terrà il consueto appuntamento natalizio organizzato dall'Avuls, associazione di volontariato di Caltagirone voluto fortemente da Monsignor Calogero Peri, vescovo di Caltagirone al quale saranno presenti gli ospiti delle case di accoglienza della città di Caltagirone. L'incontro avverrà nella chiesa di Sant'Anna con inizio alle ore 16.00. Domenica 21 ritorna a partire dalle 9.30 in via San Giovanni Bosco l'ottavo appuntamento con la prima edizione del Mercatino e non solo a Truvatura 2014, la mostra mercato di antiquariato, collezionismo, oggettistiche e prodotti tipici organizzato dall'associazione Asieur con il patrocino del Comune. Sempre domenica 21 a partire dalle 10 nella Galleria Luigi Sturzo su iniziativa dell'associazione di volontariato Precedenza Bimbo con il patrocino del Comune si terrà la seconda edizione di A Natale puoi donare un sorriso dedicato soprattutto ai bambini delle famiglie disagiate. E andiamo a Caltanisetta dove martedì 23 alle 10.30 nella sala gialla del Palazzo del Carmine si terrà la conferenza stampa per presentare la Carta della Solidarietà. L'associazione Neon presenta il Presepe Vivente e i Remaggi, sono i titoli appunto di due spettacoli che porterà in scena sabato 20 a Caltagirone e lunedì 5 a Militello Val di Catania. Sabato 20 l'appuntamento è con il Presepe Vivente nella comunità terapeutica assistita la Grazia di Caltagirone mentre lunedì 5 a Militello alle 18 sarà rappresentato i Remaggi. L'associazione Amici della Musica di Caltanisetta per la 62esima stagione concertistica presenta sabato 20 alle 19 il concerto lirico di Micaela d'Alessandro Soprano, Annalisa Mangano, Pianoforte. Domenica 21 alle 19 il concerto del duo Alessandro Locchiano, Trombale, Angelo di Leonforte, Pianoforte si svolgeranno presso la chiesa valdese di Riesi, mentre a Mazzarino nella chiesa di Sant'Ignazio di Loyola domenica 21 alle 19 si terrà il resital del pianista Dario Forturello. Ricordiamo che la direzione artistica è del maestro crocifisso Ragona. Domenica 21 a Caltagirone si svolgerà la giornata per l'agricoltura, cura dell'amministrazione comunale e di associazioni di categorie. Il programma prevede nella chiesa di Sant'Anna alle 10.30 la Santa Messa, al Salone di Rappresentanza alle 17 la conferenza sul tema dell'agricoltura, in Piazza Umberto alle 18 la degustazione dei prodotti tipici. Andiamo a Gramichele con l'avvicinarsi delle festività natalizie, e si avvicina ormai ben consolidato l'appuntamento della mostra dei presepi presso il Salone Parrocchiale della Chiesa di Gesù Adolescente. Giunta la quarta edizione, tema di quest'anno della mostra sarà a Betlemme, luogo dell'accoglienza tra i popoli. Dal 21 dicembre all'11 gennaio, dalle 17.30 alle 20 sarà possibile visitare la mostra di uno dei simboli più amati del periodo natalizio, che è appunto il presepe. La mostra si concluderà con la consegna da parte di Sua Eccellenza Monsignor Calogiro Peri, vescovo di Caltagirone, delle targhe di cordo agli artisti che hanno preso parte alla mostra. Domenica 21 alle 20.30 nella Galleria Luigi Sturzo, su iniziativa dell'Associazione Liberamente in collaborazione con l'Assessorato Comunale di Servizio alla Persona, si terrà la tombolata della solidarietà, il cui ricavato sarà devoluto a chi ha bisogno sotto forma di buoni spesa. Lunedì 22 dicembre al Museo Internazionale del Presepe, collezione Luigi Colaleo, si terrà l'altro appuntamento con racconti di Natale. L'inizio è previsto alle 17 a cura di Cetti Pepi, saranno coinvolte tutti i bambini che vorranno prenderne parte. Venerdì 26, primo festival concorso Canoro per cori e direttori, Gran Premio Città di Caltagirone, a cura dell'Istituto Musicale Pietro Vinci. Dalle 20 poi Notte Bianca con musei e negozi aperti, ovviamente sempre a Caltagirone. L'Associazione Amici del Favo di Caltagirone presenta per il 24 dicembre, vigilia di Natale, il Presepe Vivente con partenza alle 23.30 dalla Cattedrale, arrivo in via Gabelle dove avrà l'adorazione del bambino Gesù. E si terrà sino a martedì 6 all'interno della Galleria Fotografica Luigi Ghirri la rassegna Archilover che, incentrata sulla figura dell'architetto, mette in mostra i risultati dei workshop organizzati e condotti dall'Ordine Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Catania e dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti, a rete, costruire le rovine, design, whatsapp e lab design. La mostra intende approfondire particolari aspetti attraverso due conversazioni. La seconda si svolgerà il 4 gennaio sul tema design, autoproduzione e progettazione dei piccoli spazi. La mostra rappresenta anche una sezione fotografica curata dalla Galleria Luigi Ghirri. Si tratta di città sospese di Michele Nastasi, componente della redazione di Lotus. Con questo appuntamento termina questa edizione del giornale. Grazie per averci seguito, buon weekend, arrivederci.